La displasia tanatofora è una delle displasie scheletriche meglio conosciute, in quanto è una di quelle che per la gravità del difetto può essere più facilmente riconosciuta nella vita fetale. Vi presento un caso di una gravidanza gemellare bicoriale bi-amniotica in cui abbiamo un feto assolutamente normale, quello che abbiamo chiamato feto destro, mentre nel feto di sinistra vedremo una displasia scheletrica severa, molto probabilmente la displasia tanatofora. Il motivo per il quale noi vogliamo portare all'attenzione questo caso è duplice, innanzitutto perché si tratta di una gravidanza gemellare e noi sappiamo che la possibilità che si verifichi un'anomalia malformativa o un'anomalia nel decorso della gestazione in termini di preclampsia o di disturbi materni è decisamente superiore nella gravidanza gemellare rispetto alla gravidanza singola. Anche se qui si tratta di una gravidanza bicoriale bi-amniotica, il rischio malformativo per questa gravidanza ovviamente deve essere moltiplicato per due rispetto alla gravidanza singola. L'altro motivo per il quale noi vogliamo sottolineare l'importanza di questo caso è perché questo tipo di displasia tanatofora ci consente di fare la differenziazione fra i due sottotipi, quella nella quale vi è una morfologia del cranio fortemente anomala, quella che viene chiamato cranio a triforio e nel quale però manca l'aspetto più tipico relativamente agli arti, cioè il femore a cornetta di telefono rispetto appunto a quella in cui il femore è fortemente incurvato e invece la morfologia cranica è sostanzialmente normale. Vedremo che ovviamente l'interessamento delle ossa lunghe sia dell'arto superiore che dell'arto inferiore è molto marcato. Noi sappiamo che per poter parlare di patologia nel campo delle malattie dello scheletro è necessario che la biometria delle ossa lunghe sia al di sotto del terzo percentile e non del quinto come invece avviene normalmente nelle altre patologie. Abbiamo già accennato che nella displasia tanatofora si distinguono due tipi, due sottotipi di malattia, in uno avremo il caso che vi presentiamo un femore sostanzialmente poco incurvato, quasi dritto, ma una morfologia cranica fortemente alterata, mentre in un altro sottotipo che non vedremo ovviamente in questo video vi è una maggiore, una più marcata curvatura delle ossa lunghe, in particolare del femore, ma una morfologia cranica sostanzialmente normale. Come nella quasi totalità delle displasie scheletriche in forma più o meno grave sia la riduzione della biometria del torace, in questo caso la riduzione non è molto marcata, non rappresenta uno degli elementi caratteristici di questo tipo particolare di displasia, ma sappiamo anche che nella quasi totalità dei casi delle displasie scheletriche, nel momento in cui noi abbiamo una riduzione della biometria del torace per riduzione spesso delle coste, quasi sempre osserveremo in questi feti una cardiomegalia che ovviamente è riferita ad una cardiomegalia relativa, poiché è il torace, è il contenitore che è piccolo e non già il cuore più grande rispetto alla norma. Un altro aspetto che noi dobbiamo assolutamente sempre tenere conto è che in qualunque tipo di alterazione morfologica di un feto è sempre utile la raccomandazione di una consulenza genetica. In questo caso è particolarmente utile perché per due motivi, innanzitutto perché si conosce il locus genico della mutazione della displasia tanatofra e quindi avere la diagnosi di certezza, sapete che è una patologia non ripetibile in quanto incompatibile con la vita ed è autosomica dominante e questo è il motivo per cui non c'è il rischio di ripetibilità, ma anche perché alla paziente devono essere forniti tutti quegli strumenti per poter stabilire, soprattutto in questo caso, cioè nel caso in cui ci troviamo di fronte a una gravidanza gemellare, qual è la condotta ostetica più appropriata. qui vedete le biometrie, questo si riferisce al feto sano, vedete arti assolutamente normali nel range di percentili normalissimi, addirittura al di sopra del cinquantesimo. questo invece è la tabella biometrica del feto coinvolto dal difetto, dove vedete che particolarmente tutti i segmenti delle ossa lunghe sono coinvolti ed in particolare vedete come il femore addirittura sia al di sotto del primo percentile. In via collaterale si segnala che era presente anche un edema nucale, vedete qui abbiamo una plica che era di circa poco sotto i 5 mm e anche questo può essere un riscontro piuttosto frequente nel caso di malattie severe dello scheletro. qui vedete la scheda tratta da Orphanet nella quale vengono un poco riassunti tutti i punti salienti che abbiamo già trattato e cioè dell'esistenza dei due sottotipi clinici di displasia thanatofora e l'altro aspetto che è stato appena accennato quando abbiamo fatto riferimento alla consulenza genetica è il fatto che si conosce il locus sul recettore 3 del fattore di crescita di fibroblasti responsabile del difetto e che pertanto deve essere ricercato lì dove vi sia il forte sospetto di una displasia thanatofora. sappiamo che l'incidenza è di 1 su 20.000 1 a 50.000 con una maggiore frequenza del tipo 1 cioè quella in cui vi è un maggiore incurvamento del femore e minore alterazione della morfologia del cranio rispetto al tipo 2 che vedete nel nostro filmato. Sappiamo benissimo che la displasia thanatofora è detta tale in quanto incompatibile con la vita, infatti questi neonati, quelli che arrivano alla nascita vivono pochissime ore per poi purtroppo andare incontro all'exitus. Questo è relativo al caso che voi andrete a vedere, è stato eseguito il studio amniocentesi su entrambi di feti e in quello affetto da displasia scheletrica, se andate a ricercare la mutazione, avete visto, avevamo già detto inizialmente che la ricerca della mutazione specifica ha poi confermato la presenza di un anismo thanatoforo che, come abbiamo detto nel nostro caso, è quello di tipo 2. Gentile collega, voglio mostrarti il caso di una gravidanza gemellare bicoriale e biammeniotica in cui, accanto allo studio di un feto assolutamente normale intorno alla sedicesima settimana, mostrerò invece un feto affetto da una displasia scheletrica. Queste prime immagini relative al feto sano vogliono soltanto mettere in evidenza il fatto che si troviamo di fronte ad un feto la cui biometria delle ossa lunghe risulta perfettamente nella norma. Adesso però voglio condurre l'iter diagnostico insieme a voi, così come lo facciamo noi in tempo reale. La prima cosa che noi notiamo mentre studiamo il sistema nervoso centrale è che ci sono due elementi in questa testa che noi dobbiamo tenere in considerazione. Uno è che è una testa di dimensioni superiori rispetto all'epoca gestazionale e quindi una macrocrania, ma soprattutto hai notato, hai visto che abbiamo scritto lì in alto, che la forma di questa testa non ci convinceva. E avvi notato che in questa seconda proiezione ancora una volta l'aspetto a trifoglio è l'aspetto caratteristico dell'estremo encefalico di questo feto. Noti come vi sia un edema retronucale abbastanza importante, siamo oltre i 4 mm, qui risulta intorno ai 4,2 esattamente, e quindi cominciamo adesso a pensare quali possono essere le alterazioni nelle quali vi sono le anomalie che stiamo andando a descrivere. Ecco invece l'aspetto che noi più teniamo in considerazione nel poter fare la diagnosi in questo caso. Hai visto che gli arti inferiori, ed in particolare abbiamo visto il femore, ma poi vedremo la gamba, sono talmente piccoli, a 16 settimane, che siamo quasi ai limiti di un arto misurabile. Guarda questa gamba, malgrado siano presenti entambi i segmenti e sono stati ben identificati, visto in quell'immagine, sia la tibia che la fibula, hai notato che siamo ad una biometria che sta tra i 7 e gli 8 mm, quindi veramente molto molto piccolo rispetto a quello che ci sarebbe atteso per le 15 settimane e mezzo dell'epoca reale. Cosa invece strana che vedi in questo caso è che il piede appare sostanzialmente, grossolanamente normale, sia dal punto di vista della morfologia e come vedrai da qui a qualche istante anche per quanto riguarda la biometria. Piedi dritti, li vedi qua entrambi uno accanto all'altro, con biometria tutto sommato soltanto di qualche giorno inferiore rispetto invece agli arti inferiori che abbiamo visto essere estremamente corti. Passiamo adesso allo studio dell'arto superiore. Guarda con attenzione quest'omero, è un omero sostanzialmente dritto, che ha una biometria inferiore a 10 mm. Ancora guarda l'avambraccio, qui vedi la misurazione della radio che invece è al di sotto dei 7 mm, siamo intorno ai 6 mm e mezzo. Ovviamente quando ci troviamo di fronte a un arto in cui il segmento osseo è così raccorciato, i tessuti molli che si troveranno intorno all'osso appaiono ovviamente ridondanti. Ancora vedi come nell'avambraccio noi stiamo andando a cercare la presenza di entrambi i segmenti, radio e urna. Adesso noi condurremo un'altra parte dell'esame con la sonda lineare ad alta risoluzione e noteremo tanti altri piccoli dettagli che pian piano ci faranno arrivare alla diagnosi. Hai visto che l'anatomia encefalica è normale, vedi che questo tipo di approccio quindi con la sonda ad alta risoluzione ci consente già a 15 settimane di identificare in maniera chiara il terzo ventricolo che appariva normale. Ed ecco un altro aspetto importante, il femore seppur estremamente piccolo è poco curvo. Quel femore lo definirei quasi un femore dritto. Allora ecco che nell'ipotizzare una displesia scheletrica nella quale vi è un'alterazione della morfologia della testa, nella quale vi è una micromelia severa perché abbiamo visto che i percentili sono bassissimi e nella quale noi riscontriamo anche la presenza di tutti i segmenti ossei seppur molto corti e di un femore che soltanto in questa proiezione appare curvato anche se non in maniera severa, ecco che cominciamo ad ipotizzare che ci possiamo trovare di fronte ad una displasia tanatofra di tipo 2, cioè una displasia nella quale abbiamo una maggiore alterazione della morfologia del caneo e dove invece l'incurvamento del femore che rappresenterebbe l'elemento caratteristico della displasia tanatofra è invece molto meno marcato. Ancora vedi noi quando dobbiamo caratterizzare una displasia scheletrica abbiamo l'assoluta necessità di andare a identificare tutti i segmenti, vedi che noi andiamo a cercare per ciascun lato tutti i segmenti delle ossa lunghe per cercare ovviamente di arrivare nel modo migliore a quella che può essere l'ipotesi diagnostica più accreditabile. Vedi ancora le immagini relative allo studio di questo feto, noterai che c'è dell'edema anche a livello toracico, non solo a livello retronucale ma anche questo è legato al fatto che essendoci un torace un po' più stretto vi è una ridondanza dei tessuti, vedi ancora un omero corto ma un omero dritto, lo vedi benissimo in queste immagini per cui ormai abbiamo formulato l'ipotesi diagnostica di una displasia tanatofra di tipo 2. Ovviamente abbiamo già in sede di presentazione del caso parlato dell'importanza della consulenza genetica, però ricordiamo sempre che per poter formulare una diagnosi certa di displasia scheletrica è estremamente importante riuscire a reperire delle indagini sul feto come ad esempio la radiografia di alcuni segmenti oltre che delle ossa anche delle vertebre o anche delle coste che ci possano consentire la diagnosi certa del caso che noi stiamo andando a identificare. Io vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.